Anche Pino D'Amore è presente all'Appello, grazie Pino per aver accettato questo invito. Buonasera a tutti, siamo qui per il grande evento per Rosario Fioretti e ci saranno ancora altri artisti che verranno qui a questo grande evento. E sono molto felice, ringrazio Umberto Sanzilmo e Serena Nardi. Dove ti vedremo in campo, in che ruolo? Vabbè, ma il ruolo non c'entra, l'importante è di divertirci. Ok, lui è un Amasic, è una particella vagante. L'importante è divertirsi e portare avanti un messaggio? L'importante è di divertirci e di stare tutti in giro per passare una bellissima giornata. Salute ai tuoi fan, un bacio a tutti.